Chi tra Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nicolin Corvaia e Nikita Pelison abbandonerà la casa del GF VIP giovedì 23 febbraio? Ecco l'esito dei sondaggi. Giovedì 23 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con il grande fratello VIP, durante il quale si saprà il nome del nuovo concorrente eliminato dal programma. A rischio ci sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nicolin Corvaia e Nikita Pelison. Lunedì scorso era stata eliminata Sara Altobello. Ma la donna ha potuto fare rientro in casa in quanto era in possesso del biglietto di ritorno. Che ci sia un colpo di scena anche stavolta. Questa nomination è piuttosto dura. In quanto sono al televoto quattro personaggi molto discussi. Che hanno dato sicuramente il loro contributo nella casa. I sondaggi presenti sul web, però, sono alquanto unanimi nello stabilire chi sia il concorrente meno salvato. E quindi destinato all'eliminazione. Esito sondaggi Grande Fratello VIP del 23 febbraio. Chi rischia l'eliminazione? Giovedì 23 febbraio una persona tra Nikita, Antonella, Antonino e Micola abbandonerà la casa del Grande Fratello VIP. Chi sarà? I sondaggi presenti sul forum del GF VIP rivelano che la persona meno salvata dal pubblico votante è Antonino Spinalbese. Quest'ultimo, dunque, dovrebbe abbandonare la casa di Cinecittà nella prossima puntata del GF VIP. In penultima posizione, invece, si posiziona Antonella Fiordelisi. L'influencer ha perso tantissimi consensi. Sta di fatto che è distaccata dall'ultimo in classifica solo per una piccola manciata di voti. La concorrente preferita, invece, è Nicola Incorvaia, la quale è subito seguita da Nikita Pelison. GF VIP 7 Antonino Spinalbese è stanco del programma. I sondaggi aperti sul sito Reality House, invece, danno un esito analogo per quanto riguarda l'ultimo in classifica, che anche in questo caso risulta essere Antonino Spinalbese, ma uno totalmente differente per il resto della classifica. In questa circostanza, infatti, a ricevere più voti favorevoli, infatti, è Antonella Fiordelisi. Subito dopo di lei, separate da una percentuale bassissima di consensi, ci sono Micolin Corvaia e Nikita Pelison. Insomma, a quanto pare, ad uscire dal grande fratello VIP dovrebbe essere, senza ombra di dubbio, Antonino Spinalbese. In effetti, il ragazzo appare piuttosto stanco all'interno della casa. Il concorrente non interagisce più come prima e non sta facendo assolutamente nulla per far parlare di sé. Probabilmente è lui il primo ad essere stanco di questa avventura. Grazie. 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 Grazie.